Anche se a marzo dobbiamo annotare un calo evidente sia dal punto di vista dei risultati che dello stato di forma di qualcuno, tanto che prima si facevano 4 gol a partita, a marzo l'Inter ha vinto 2-1 col Genoa, 0-1 col Bologna, ha perso con l'Atletico 2-1 e ha pareggiato col Napoli 1-1, quindi credo che anche in modo fisiologico, anche se nel momento sbagliato perché a Madrid era il momento meno indicato, poi c'è da dire che se all'andata volevi passare potevi pure fare un paio di gol e ti mettevi un po' più al sicuro. Il rischio di queste squadre che giocano bene così, a questi livelli, secondo me è il rischio di specchiarsi, di guardarsi allo specchio, a volte l'Inter secondo me è peccato di questa cosa, secondo me, in certe situazioni avrebbe dovuto essere più cinica. Comunque 3-4. L'anno scorso Simone che quest'anno però. Attenzione a Turam. Turam sulla destra, lanciato in campo aperto, ora rinviene su di lui il difensore dell'Empoli ma c'è ancora Turam che prova ad andare a mettere la palla al centro, niente di fatto, si è salvato Valluchieviz, è stato bravo ad arginarlo ma Inter che recupera la palla, ora Di Marco il tiro è il gioco! Di Federico Di Marco, il cross da sinistra di Bastoni, Di Marco che va spesso a tagliare al centro, si trova in posizione completamente centrale, non è marcato da nessuno perché è difficile lettura il suo movimento. grande tiro di Di Marco angolato alla destra di Caprile e ancora un gol di uno dei difensori che segnano di più in Europa. Cinque gol e sei assist per lui quest'anno, Inter in vantaggio dopo cinque minuti, riprendono le buone abitudini. Caro Simone, 1-0 per l'Inter. Fuori gioco di Turam dici? Secondo me fuori gioco. dell'azione, quando viene la bandierina, però poi non alzavano la bandierina, anche a me è venuto molto il dubbio adesso. La bandierina non la alzano, perché deve aspettare che l'azione si risca, però voglio vedere il fermo immagine. Ma farebbe parte sempre del nasce dell'azione o l'azione è partita da lì? Allora lì bisogna andare poi anche nel tecnico a vedere se Lempoli, perché io non me la ricordo a memoria, si è recuperato Paolo per un attimo Lempoli. Buono, buono, buono. Ma può darsi che anche Lempoli abbia toccato la palla interrompendo l'azione da quando l'ha presa Turam? Perché adesso non... Ma se non pareva che ci fosse l'incrocio. Bella domanda. Allora può... Bella domanda. Oppure può darsi... Era quello il dubbio che avevo. Era quello il dubbio che avevo, che l'azione fosse stata... Però sicuro l'hanno controllata. ...denemente interrotta, sì. Perché tutti gli audiovar che sentiamo adesso sempre ti dicono sempre se... App, app, cioè se la stessa azione, possession phase. Che bella coordinazione Di Marco. Benissimo, però ragazzi, in otto, schierati, Lempoli, riesce a prendere gola facendolo calciare da solo al limite dell'area. Ma è una follia tattica. Ma sai perché Di Marco lì... Con la fame che dovrebbe avere una squadra che si deve salvare. Certo. Ma no, ma non è che Di Marco, perché giochi con riferimento. C'ha la maglia nera-azzurra, lo marchi. Invece lui cosa fa? Si abbassa il quinto, si preoccupa dell'esterno e si stacca da Di Marco e lo lascia là. Perché Di Marco è una posizione, diciamo, intermedia, verticale. Però questa è una cosa che anche l'Atalanta, che è sempre molto preparata tatticamente, ha sofferto, nel senso che tu ormai non sai più all'Inter Di Marco dove va. Perché è Bastoni che fa l'esterno-sinistro, mentre Di Marco svaria, va a destra-sinistra. Vero, però l'Atalanta difende, diciamo, uomo contro uomo, non a uomo, ma uomo contro uomo, diciamo, spezza la linea. E quando tu muovi, diciamo, i giocatori, li fai cambiare zona, li metti in difficoltà alla squadra avversaria, ma l'Empoli gioca prettamente invece con lo spazio e l'uomo nello spazio si marca, invece lui non prende nessuno. Mamma mia, che cosa brutta ha fatto Neanga adesso, ragazzi. È un'azione, ma poi lenta, nel senso che comunque si è sviluppata con tanti passaggi orizzontali a un certo punto, al di là del fuorigioco possibile, fuorigioco iniziale, che secondo me non c'era, ma mai non puoi prendere il gol così. Certo. Tu dici già è difficile affrontare. Sempre Bastoni di Marco, sempre quell'asse lì di sinistra, spesso bastoni al centro per Di Marco, abbiamo visto bastoni per Darmian con il Napoli, e Darmian dove era era al centro, anche lui esterno. Marcello, partita subito indirizzata, 5 minuti di gioco e già stiamo parlando di intermattare. Ma sì, ma non avevo dubbi. Ma non avevo dubbi. Ti ho detto subito che l'Inter vince questa partita 3-0 come minimo. Non ho dubbi che l'Inter vinca questa partita. Senti, non ti abbiamo fatto commentare invece le parole di Marotta su Acerbi. Ci sarà tempo, però se vuole. Ah beh, parlo a Marotta, ma è come se fosse l'avatar di Gravina. Io ho sentito Gravina dire praticamente quasi le stesse cose. L'unica differenza è che Gravina se lo abbraccia Acerbi e Marotta invece dice è un uomo con la U maiuscola. Tutti e due poi dicono che c'è una sentenza da rispettare. Io lo vedo bene. Nel futuro come presidente della FIGC, Marotta lo vedo molto bene. E poi comunque ormai è allineato. Sono entrambi allineati. FIGC è allineata all'Inter e all'Inter è allineata alla FIGC. Fuori gioco qua di Turam, Nicola ha qualcosa da dire ai suoi. Allineato, hai detto pure tu della sentenza. Siete allineati dal 2006. Guarda, io ti dico più ministro dello sport nel 2027 che presidente della FIGC. Marotta. Perché parla di voler cercare di portare lo sport gratuito anche alle famiglie che magari se lo possono permettere meno. Ci sono più discorsi secondo me da politica che da federazione. Perché la federazione cosa può fare a livello di incentivi? La federazione fa politica. Sì, ma dico incentivi per le famiglie. Mi sembrava più un discorso da ministro che da presidente. Però, sì, ma vedi quanto si muove a body. Si muove, insomma, chissà che cosa faccia per lo sport a body. A body che si è discostato però un po' dalle parole di Gravina si è un po' allontanato. È diverso. Invece proprio l'allineamento tra l'Inter e la FIGC è totale. Sì, anche l'Italia la dovremmo iniziare a chiamare più Italy-Inter. Vi ricordate c'era l'Italy-Uve? Io la chiamo nazionale federale. Io la chiamo nazionale federale. Lo so che non tifi più Italia perché c'è questa maggioranza nerazzurra. Diciamo che dopo il caso Cerbi... No, 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 l'Inter non c'entra niente in questa faccenda. Ah, meno male. No, 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 l'Inter è una faccenda niente. Però ci sono... Potevano essere anche tutti e undici dell'Inter. Attenzione all'Empoli prima. Attenzione all'Empoli da sinistra con Cambiaghi che punta proprio a Cerbi che è largo a destra in questo frangente. Ancora Cambiaghi, la palla al centro pericolosa, attraversa tutta l'area di rigore. Va dall'altra parte, non c'è nessun giocatore però dell'Empoli. Ora c'è Marin, ancora Empoli, al centro il tiro alto fuori. Sbilenco di Zurkovski che ci ha provato. E il cannoniere dell'Empoli con quattro gol ed è arrivato a stagione in corsa, così come è arrivato Nicola che ha messo di nuovo l'Empoli sulla strada della salvezza. Nelle ultime partite un po' di rallentamenti ma sono ancora tutte lì. Comunque ha ragione Marco. Perché Di Marco è là da solo al limite dell'area? Ma perché si però... Un atteggiamento un po' allegro. Uno dei concetti della zona difensiva è quello di occuparsi... Il primo pericolo è quello interno, cioè quindi quello vicino alla porta. Se tu mi vai a marcare quello sulla bandierina dall'altra parte... Cioè liberi il centro. Dal centro è più facile fare gol rispetto a... Comunque abbiamo la risposta perché qualcuno, anche chi trasmette la partita in esclusiva, diceva difesa a quattro. Altre difese a quattro invece ne abbiamo messo la grafica a tre. No, 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 è a tre. È a tre, sparata a tre. È un 3-4-3 sparato con il quattro. Berezischi, va a Lucchievis e Luperto. Attenzione ancora all'Empoli. Sempre da sinistra, dove l'Inter sta avendo qualche difficoltà tra Lasse, Darmian, Pavard... Ma era anche un po' diciamo prevedibile che potesse essere il punto di forza, almeno secondo me, dell'Empoli perché Cambiaghi sta facendo molto bene. E quindi da quella parte bisogna raddoppiare tra Darmian, Pavard... Ho visto Acerbi più volte allargarsi sulla destra, ma non lo tengono per ora. Non ho ancora visto la porta una volta questa, non Cambiaghi, ma è un profilo molto interessante. Michele, ma tu che sei dell'ambiente, quando il pallone è in area e Inzaghi con la manina fa così e non lo guarda nessuno e non lo sente nessuno, a chi parla? A se stesso? A qualcuno sente sempre, come no? In uno stadio come San Sino? Sì, magari quelli dalla tua parte sono sempre quelli che sentono e poi danno il messaggio. Cioè uscire, uscire, non ci schiacciamo dietro. Hai ricordato che ci sono 70.000 persone? Che riassunto come diapositiva di Ezio Morina? Scusami? No, dicevo. In meme. Usciamo, non ci schiacciamo dietro, che riassunto in diapositiva, come diceva una volta a Stiscia C'è la notizia. Beh, Ezio Morina, eh? Con la guardia di Inzaghi? L'hai fatto prima! Eh, vedi. Mi fa questo movimento così? Capì. Non lo guarda nessuno e non mi puoi dire che qualcuno lo sente. Cosa ci stai dicendo? Che Inzaghi c'ha... Non lo sente, non lo sente. Parla da solo. Cioè, comanda la partita come avesse il joystick. Attenzione. Di Marco Sarros sul secondo palo va a terra a Valuchieviz e credo sia fischiato fallo. Non lo sento. Marco. L'unico che c'è a leggare. Marco. Conte. Conte, in uno stadio come San Siro, se hai il tuo allenatore a più di 20 metri, con 70.000 persone, cosa senti? No, non senti tanto. Non senti tanto. Quello vicino sente. Però può arrivare la voce, ci sono dei gesti che puoi capire cosa vuoi. Non so cosa voglia dire questo. Di salire, di salire. Quello non si sa. Va bene. Sono calati, c'ha Noglu, Michi, Tarjan. Non Bastoni. Guarda Bastoni. Che adesso fa un break. Ecco, attenzione, Bastoni, il tiro palo. Gran parola di Caprile. Il palo di Alessandro. Bastoni la devia. Caprile. Probabilmente la tocca in modo decisivo. Bastoni che non cala. Si fa tutto il campo dritto per dritto. Entra in aria. Carica il sinistro. Vediamo il tocco di Caprile. Non so quanto decisivo però. No, la tocca, ma il... No, no, tanto decisivo. Decisivo? Sì, sì. La gran parola era di collo pieno forte. Era più un interno. Un interno collo, quasi a giro. Lui molto bravo a prenderla. Se non la tocca va dentro. Caprile è di proprietà del Napoli, ve lo ricordo. Caprile è un buon portiere. Ha fatto fatica a inizio stagione e adesso sta facendo... Conciuto l'Inter che va forte con Cialanoglu che cerca. Ha una scorsa grande campionata al Bari. Ma Inzaghi che di solito allenta la tensione nelle partite importanti. Stavolta ha voluto, forse anche concomitante con la Pasqua, il ritiro prima della partita. Sì. Perché non si vuole sottovalutare niente. Poi sono squadre che lottano comunque punto a punto per salvarsi. Non è che l'Empoli viene a fare la scampagnata. Attenzione ora a Giasi sulla destra con Cerbi che va a chiuderlo da quella parte, cioè a sinistra dell'Inter. Ora c'è Cambiaghi che è andato da quest'altra parte e in angolo si salva Pavard. Attenzione, attenzione. Attenzione. Correrone, correrone per l'Empoli. Attenzione. Correre l'Inter ha preso l'ultimo gol. L'Empoli da dietro, ma è un po' larghe, ma davanti però dai, qualche spunto interessante lo fa vedere. Però vedi, ancora una volta, perché c'era l'uomo che è andato a creare la superiorità? Bastoni. C'è sempre uno che viene da dietro, loro magari si infila da dietro. L'attaccante lo perde. Sono spesso i difensori all'Inter a creare superiorità nell'area avversaria. Calcio d'angolo per l'Empoli quando scocca il ventesimo minuto. Palla che spiove in aria. Attenzione, non la prende nessuno. Palla a giro a uscire. Attraversa un po' l'aria e poi va a sinistra nella zona d'attacco dell'Empoli. Dove però Cambiaghi sceglie di tornare indietro e quindi Empoli che ripasse dal suo portiere. Non ci sono sette ancora episodi di VAR, quindi partita molto tranquilla. So che sul VAR però Simo volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire... E' inutile che piangi, il campionato è già finito. Guarda Morina. Allegri l'abbianchiuso fuori con il suo casino. C'è una bugia sul VAR, le male lingue e poi un calcio di Turam che tutto spazza via. Soli verso la seconda stella. Soli dove il cielo è nero e blu, io e te, tu e me. Da quando Allegri ha parlato di guardie e ladri, la Juve andò pure a più uno, più due, perché aveva una partita in più, addirittura due partite in più prima di Fiorentina e Inter. Per una sera. Per una sera andate a più due e adesso a meno venti, caro sì. Più due a meno venti. Due mesi sono stati... Perché continuate a preoccuparvi della Juve? Ma infatti Allegri ha sempre visto la quinta, questo è questo. E' veramente la vostra ossessione. No, sai. State vincendo il campionato, state dominando, avete segnato 150 gol. Allegri che a gennaio ci ha nominato tante volte. Sinner, Gioco, Vici, ti ricordi? Erano i tempi dei paraocchi, i cavalli dei paraocchi. Ma a proposito, Marcello, guardati dal Milan che è più vicino. Sapete che, Borrelli, c'è un nuovo coro? Sì. Aspetta, 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 Simono, mi farò un altro coro, me ne hai fatto già 12. No, per Morina, per Ezio Morina. Al volo, dai, 5 secondi. Quante sconfitte, quanti guai, che non vi ripigliate mai. Morina, sei un chiacchierone, quanta fantasia che hai. Ti cercano e non ci sei più, alle 8 e un quarto sei già su. Coi vestitini bianco-neri, curu-cucu-cucu dell'ossù. Sai che il termine chiacchierone venne cognato in un coro da stadio almeno 25 anni fa. Era per l'interista chiacchierone che sognava sotto l'ombrellone. Allora, tra poco vado a Marcello, prima vediamo questa azione dell'Inter. Sì, Inter che ora prova ad andare sulla sinistra con Cialanoglu che fa scendere a Cerbi, si sovrappone Di Marco, cede la palla il centrale dell'Inter a Di Marco. Ora si torna per vie centrali con Cialanoglu, alza la testa ancora per Di Marco. Metà primo tempo, sempre 1-0, Inter che ora fraseggia a centrocampo. Ma Michiteriano prova ad accelerare ora con Barella che da sinistra la serve per Lautaro sul destro. Lautaro il sinistro, centrale Caprile se la vede arrivare e la blocca facile. Ma come il sinistro e la fai spostare sul mancino? Come marcano? Un po' morbida la difesa dell'Empoli. Poi l'Inter è sempre molto fluida. La pressione dei pressi dell'aria è... Sembra la partita del giovedì contro la primavera, quando a quelli della primavera viene detto mi raccomando non entrate. Ma se sempre con l'Inter c'è questa impressione, sarà, mi viene il dubbio che sarà forse l'Inter. Sempre con l'Inter... Stiamo guardando l'Inter, non è che ti posso... Secondo me l'Empoli lo vediamo sempre molto... C'è un aspetto che l'Inter è assolutamente fortissima, ok? Se andiamo sul discorso delle classifiche, oggi Milan viene da sei vittorie consecutive ed è a meno 14. La Juve ha avuto un ruolo di marcia altissimo e adesso a meno 20. Vuol dire fondamentalmente che l'Inter ha tenuto un passo che le altre non ce l'hanno fatta tenere, ok? Cioè quindi non è che tutte hanno fatto un campionato pessimo, ok? Un po' come il Napoli l'anno scorso. E l'Inter che ha fatto un grandissimo campionato. Però secondo me c'è un aspetto degli avversari di timore troppo, elevato. Entrano in campo già sconfitti. L'Atletico, vero che all'andata forse l'Inter meritava un attivo più ampio, però se l'è sempre giocata, non so come dire. Quell'aspetto... Gli italiani arrivano quasi a non giocarsela con l'Inter. In Europa non c'è il timore reverenziale di partenza. Sì, ecco, c'è grandissimo rispetto come merita questa squadra, ma qui forse c'è il più troppo. Io vedo un Empoli che ci sta provando anche in avanti. Sì, ma parlo della fase difensiva. Eh, ma la fase difensiva perché forse non sono fuori classe. Valuchievi, Sberenzischi... Eh, ma, Luperto. Mi fate chiedere una cosa a Marcello sulla Juve. Prima però, scusa Marcello, ancora a live. Prima l'Inter con Mkhitaryan. Break di Mkhitaryan che si fa tutto il campo. Siamo già ridosso dell'aria di rigore con Lautaro. Dribbling di Lautaro da sinistra. Scarica per Turam che è anticipato da Luperto. E allora però la palla va a finire a Di Marco che alza la testa, poi la cede al 22 che Eric Mkhitaryan, attenzione al treno armeno che se l'allunga troppo e non riesce a crossare. Qua male, eh, non da Mkhitaryan col pallone. Sembrava la palla impazzita, eh. Non un controllo di palla, insomma, incommiabile come il suo solito. No, Marcello, dicevo, oggi leggevo un tweet, anche se adesso non si chiama più Twitter, ma X, insomma, un post di uno dei nostri esperti di mercato, Paolo Bargigia, che raccontava di come la Juventus sul finale di Lazio-Juventus abbia davvero pensato alle zone di Allegri, ma poi per mancanza di alternative importanti si era pensato a Montero ma non ancora pronto per certi palcoscenici. Il grande allenatore oggi non c'è. Abbia ancora puntato sulla permanenza di Allegri. Tu che sei uno dei più grossi sostenitori e fautori del fatto che Allegri non ci sarà più l'anno prossimo sulla penchia della Juve, ma ci sarà Tiago Motta. Ti risulta questa notizia? Cioè, dopo Lazio-Juventus, i vertici Juve hanno pensato davvero all'esonero di Allegri. Sì, ma devo dirti che però, alla fine, questa decisione, poi non so se parleremo di Juventus nel resto della trasmissione, magari approfondiremo, cioè questa decisione di fatto indebolisce ancora di più Massimiliano Allegri. Attenzione a Odilo Mi-Zurkovski, dalla lunghissima distanza a Odero si deve stendere con la mano di richiamo, come si diceva una volta, anzi, Marin, non Zurkovski, tiro centrale sotto la traversa, palla che gira, un po' come questi palloni di oggi, e quindi deve deviare in calcio d'angolo a Odero, che poi se la prende con chi non è andato a chiudere, su Marin, che ha fatto partire questo tiro da fuori. Se avete visto il tiro di Salmachers oggi, sembrava dovesse andare a sinistra e a destra. Un po' come lo prende, un po' il vento. Sufiamo l'angolo, poi torno da Marcello. Angolo, angolo dalla sinistra, alla sinistra di Audero, c'è l'arbitro Dionisi che sta parlando con Nacerbi, bastoni, c'è qualcosa che ha visto magari in aria di rigore, dice magari di non toccare, di non fare fallo sulle maglie bianche dell'Empoli. Parte il calcio d'angolo da sinistra, palla al centro, Turam di testa, Svetta con il suo metro e 92 fuori aria, palla allontanata, ma che finisce ancora nei piedi dei giocatori dell'Empoli che possono ripartire con Berezischi. Ora lo scambio con ancora Empoli da quella parte Zurkovski che è venuto un po' più dietro, parte più da destra. Zurkovski a destra, Cambiaghi a sinistra, Mbaie che però non dà riferimenti al centro. Quindi è un tridente un po' senza punti di riferimento. Molto mobile, poco incisivo però. Quello del... No, quello... Torno da Marcello, Marcello parleremo di Juve un po' così qua e là perché finendo oggi alle 11 con la partita però è giusto qualche spunto ce lo teniamo anche perché non ce ne vorranno Michele e Simone ma Inter 1-0 più 14 sul Milan. Direi che qualche fuoripista ce lo possiamo concedere. Dicevi? Possiamo fare un po' di varietà. Esatto. No, nel senso che questa posizione della Juve indebolisce ancora di più Massimiliano Allegri anche se io mi sarei aspettato chiaramente una dichiarazione da parte dei dirigenti. Lo indebolisce perché adesso penso che non gli proporranno nemmeno più un rinnovo. Cioè stanno andando sempre di più nella direzione di la chiudiamo qua. Anche se non troveranno un sostituto, Mantero non gli va bene, non trovano il traghettatore, vabbè, anche se secondo me se dovesse proprio implodere del tutto la situazione un traghettatore lo trovano. Però questo fa sì che veramente a fine maggio la storia si chiude in un modo o nell'altro. troveranno una soluzione con Massimiliano Allegri. Comunque mi darete atto che Tiago Motto io ve lo dico da due mesi. Poi vedo che oggi tanti oggi danno per sicuro Tiago Motto io ve l'ho detto da due mesi che l'ho già deciso tutto. È un nome che gira da tanto ma con la tua convinzione perlomeno la nostra emittura è stata così. Anche Paolo aveva dei dubbi io però avevo detto che guardate che io ho notizia certa che l'hanno già scelto Tiago Motto. Non si può che dare poi vedremo perché sta il calcio che si è portato a due dalla Juve oggi. Tiago Motto è sicuramente l'allenatore più del momento. Ma infatti vi ho anche detto che il Bologna arriverà a terzo. Finito il primo tempo 1-0 per l'Inter lo decide finora Di Marco con un bel sinistro di controbalzo veramente ancora grande tecnica per il numero 32 dell'Inter. Ricordo 5 gol 6 assist quest'anno bei numeri. Assolutamente sì. Questa è la classifica con l'Inter che torna più 14 sul Milan. Ricordiamo allora l'Inter giocherà le prossime due partite a Udine e Inter-Cagliari quindi direi partite abbordabili. Non che non ce ne sia una abbordabile per l'Inter per questi numeri però a maggior ragione Udine e Cagliari lo sono. Milan affronterà il Lecce e il Sassuolo partite abbordabili se restano così si giocherà Milan-Inter con lo spauracchio caro Marco che se l'Inter dovesse vincere con la partita vi vincerebbe il campionato in faccia. Assanzi. È un rischio che dobbiamo anche purtroppo che corriamo ma non che festeggiamo in qualsiasi partita No però tu dici tra tutte le partite ecco No tra tutte le partite è meglio che se lo vinca prima o lo vinca dopo magari non in quella anche perché i derby Come te le immagini? Calabria ha detto non succederà cioè secondo te i giocatori del Milan scenderanno veramente in campo con la bava alla bocca per far sì che un'onta così quel giovedì c'è Roma-Milan Io credo non la legge ai grandi numeri Quel giovedì pre-derby c'è Roma-Milan il ritorno dei quarti di Europa League quindi Milano comunque avrà un impegno quattro giorni prima l'Inter avrà tutta la legge ai grandi numeri Per la legge ai grandi numeri non credo che l'Inter vinca lo scudetto ma più per la cabala che per i reali valori perché comunque viene fuori da 5 derby consecutivi vinti viene fuori dall'anno scorso che ha vinto la semifinale di Champions League diventa difficile che la concomitanza vada mi ricordo anche quando c'era il Milan in crisi lo stesso Milan quando ancora giocava a Pirlo prima o dopo abbiamo vinto un derby Ma per caratteristiche secondo te anche da allenatore il Milan per come è conformato per la tattica che sceglie per i giocatori che ha soffrerà sempre l'Inter o Pioli ne ha sbagliate troppe e adesso metterà un freno a certi errori e il Milan se la giocherà più che l'Inter dimostra che si abbassa la tensione e può arrivare la partita di oggi dimostra che l'Inter non sta bellissimissimo come stava prima ricordiamoci che l'ultimo derby vinto dal Milan è il 3-2 e il Milan ha avuto lo stesso tipo di atteggiamento che ha avuto negli altri derby che delle volte tranne che in un derby quello del 5-3-2 quando abbiamo perso 1-0 con gol di calcio d'angolo di Lautaro che abbiamo fatto catenaccio tra l'area piccola e l'area di rigore ok tutti gli altri sono stati affrontati nello stesso modo ovvero un uomo contro uomo quasi tutto campo ma ricentro molto alto che è stata quasi un'arma suicida adesso è il fatto che quando hai vinto 3-2 dove Mignano ha fatto un paio di parate ma hai meritato tendenzialmente la vittoria del derby hai meritato più quello di vincere di quello che hai vinto 2-1 il derby dello Scudetto che si è girato Giroud la parola famosa quindi dico per caratteristiche dipende tanto dall'Inter paradossalmente cioè se l'Inter è al massimo della forma con il massimo dell'intensità agonistica e con il massimo dell'attenzione per il Milan è difficile penso in qualsiasi modo vado ad affrontare l'Inter nel momento in cui invece l'Inter abbassa un po' la tensione secondo me il Milan ha le qualità per venirne a capo per venirne a capo scusa non ho capito puoi ripetere è stato chiaro no no ma fino Marco si è stato chiaro no ma fino lì tutto è normale va bene allora ti chiedo non capisci tu quello che dico vuol dire che ho parlato di calcio dove vai non svegliare poi così bellicoso con la sciarpa non ti avvicinare guarda che Ezio si incacchia se bastasse una vera canzone però anche un po' nasale la fa a far star zitto Morina si potrebbe cantarla un milione un milione di volte basta se già vieni 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 basta se già non scimmiottiamo Eros Ramazzotti non si dovrebbe più avere bisogno della carità dedicata a tutti quelli che sono nero azzurri allora cantiamo tutti allora andiamo da Michele per chi si fosse collegato ora che è interessata quella dei primi 45 minuti che partita è stata un ottimo approccio un ottimo approccio Lempoli però dopo aver subito il gol un paio di occasioni non ha mai rinunciato ad andare in avanti e quindi è rimasto in partita meritatamente anche adesso Di Marco intervistato alla fine del primo tempo ha messo non come di solito si dice sempre all'Inter dovevamo fare il secondo ma non dobbiamo concedere così tante in aria perché il pallone ha ballonzolato nell'aria dell'Inter 4-5 volte pericolosamente se ne è accorto insomma se ne è accorto se ne è accorto quindi non so se vogliamo andare direttamente a tradurlo andiamo con gli appendanti con alcuni giocatori da mettere su partiamo proprio da Di Marco che ha finora decide la partita finora ha deciso la partita quindi un bel 7,5 per lui perché non so ha segnato ma mi piace molto i movimenti che fa corre tanto e anche il modo in cui ha calciato la palla quindi anche per differenziarlo con gli altri due parto alto da 7,5 vado al 7 con Bastoni che sia in fase difensiva ma anche offensiva ha preso un palo non ha mai rinunciato ad andare in avanti alimenta sempre l'azione offensiva mi piace molto quando sta bene veramente un giocatore si inizia a parlare purtroppo di 70-80 milioni ma un film già visto da parte di squadre inglesi speriamo di no sai che ti posso dire il terzo secondo me non è così facile ecco il terzo secondo me se la giocano a Cerbi e Barella per tutto quello che è stata la settimana dico a Cerbi che non ha fatto oggi solo il difensore ma è andato molto in avanti e si è fatto insomma valere nella propositività quindi da un 6,5 6,5 da Cerbi 6,5 mentre scendono allora qua inseriamo i due centri fare il giro di campo da Cerbi sta facendo sta facendo su e giù in effetti sì sì il giro di campo sì no capito e fortunatamente non ho trovato nessun bugiardone che ha detto cose brutte su di lui oggi parole non si sono sentite o almeno proteste per quanto riguarda i down 7 ironici comici sarcastici 5,5 ai due centrocampisti non Barella quindi c'è Lanoglu e Mkhitaryan un po' sulla scia sempre di Madrid diciamo che ci hanno abituato molto bene eh beh sì allora sono d'accordissimo il terzo secondo me è proprio vediamo vediamo tu cosa dici? no volevo chiedere a Michele sul terzo io vorrei su Turam e l'Ottaro non l'hanno mai buscato sul terzo vado su Turam perché l'Ottaro si è liberato al tiro qualcosina il colpo di testa l'ha parata di Capri poi l'ha toccata l'ha toccata poco ma Turam è un po' impalpabile ma è un periodo che dura da l'infortunio con l'Atletico Madrid poi è tornato anche un po' forse forzando perché c'era il ritorno a Madrid ma da lì continua e anche il nazionale ha fatto una partita e mezza non benissimo allora l'assunto nei tiri sono 7-8 nel totale voto a Turam Turam gli do un 5 7-8 per quanto riguarda i tiri totali l'Empoli 4-3 in porta l'Inter 56-44 possesso l'Inter corner avevamo già detto 3-1 per l'Empoli ma anche i cross 10-4 soprattutto Cambiaghi Bastoni Pezzella stanno mettendo tanti palloni in mezzo infatti se non chiudiamo questa partita può diventare molto pericolosa ma io faccio in comune pericolosissima io ho il posto tuo 3-2 per la partita di stasera siamo 1-0 e sta pressando l'Empoli Marcello secondo te l'anno prossimo Taremi può fare le scarpe a Turam che dicevamo prima forse in maniera un po' cattiva ma sono due ruoli completamente diversi sono due giocatori totalmente diversi però diciamo prima come Turam inizio anno certo però dato che Lautaro sarà uno dei due sicuramente diciamo prima che Turam forse quest'anno inizio anno ha quasi overperformato abbiamo visto i livelli dove in Germania non ha livelli che in Germania non aveva mai toccato adesso corre sempre tanto un giocatore importante si danno l'anima però è un po' meno preciso ecco Taremi che è un bel cecchino è meno lucido sottoporto sottoporto è meno lucido cosa dici? sì Taremi è un bel cecchino nella liga portoghese adesso vediamo quando viene in Italia come si adatta è diverso qui trovate i sensori diversi quindi vediamolo un attimo ecco però Turam è adesso in un momento una fase un po' discendente però ripeto possiamo giocare insieme potremmo anche vederle insieme qualche volta rivediamo la formazione dell'Inter voglio capire secondo voi dov'è migliorabile questa formazione perché abbiamo detto che arriverà Zieninski Zieninski per classe ne è un bel upgrade no no ma io però banalmente parlo degli undici cioè dove può essere migliorato l'undici secondo me Zieninski Paolo con Mkhitaryan che è un anno in più gli può fare le scarpe diciamo che è più un 50 e 50 rispetto a un titolare una riserva almeno 50 e 50 Zieninski mi aspetto io poi 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 si parla di Hermoso al posto di Acerbi quindi un giocatore comunque con otto anni in meno di Acerbi sì anche se allora vi sto dicendo una squadra che deve essere migliorata perché non è che questa squadra è perfetta vabbè Taremi e Arnautovic migliori Taremi e Arnautovic migliori poi l'Inter tu parli sempre di rosa però io parlo degli undici no no di titolari di titolari a destra a destra perché se Dumfries parte adesso c'è Darmian che sta giocando più titolari di Dumfries Buchanan 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 secondo me Mitch Buchanan allora lo chiederemo in zaga perché non siamo ancora riusciti Buchanan può diventare un giocatore importante no però aspetta però ti dico anche se Buchanan può giocare a destra secondo me oggi nell'assetto dell'Inter che ha molto le coppie i titolari e l'alternativa Carlos Augusto è diventato più alternativa di bastoni e dietro e Buchanan di Di Marco a sinistra quindi a destra ci sono Dumfries e Darmian se Dumfries non rinnova va sul mercato e lì l'Inter prende un destro non va Buchanan a destra e prendono un sinistro stanno seguendo questo Sugawara un giapponese della Z della Z che può essere un giocatore funzionale ma che può crescere non è un campione c'è un po' di rammarico a vedere Bellanova che sta arando la fascia al Torino tanto da essersi però Bellanova posso dire la convocazione nazionale io l'avrei tenuto io Bellanova l'impressione che ho sempre avuto di questo giocatore è di un giocatore con delle potenzialità fisiche enormi strabordanti grande velocità e un giocatore che ovviamente vuoi l'inesperienza vuoi la giovane età vuoi tante cose doveva un po' affinare la tecnica io adesso non mi prendete in giro per quello che dico ovviamente è un modo di dire dico una cosa tra virgolette ma mi ricordava tanto come fisicità Gareth Bale per dire come giocatore come giocatore come giocatore quello che andava piano come giocatore no un po' esagerazione no no aspetta aspetta Gareth Bale era un giovane promettente sconosciuto che è diventato famoso in quella gara famosa con l'Inter segnava non voglio paragonare assolutamente due giocatori grazie però Bellanova voglio dire ho detto questo per dire quanto mi sembrava un giocatore di grandi prospettive io non l'avrei dato via in poche parole però aspettate prima di dire l'ha dato via perché c'è una parte mi sembra un po' improprio cioè Gareth Bale ha estremizzato è un paragone assurdo certo voglio ritornare al discorso della decisione perché l'Inter lo stava trattando con delle contropartite col Cagliari il Cagliari si era pure seduto al tavolo per mettere delle contropartite quando il Torino fa l'offerta il giocatore può dire come fece Barella quando arrivò la Roma che offriva più dell'Inter il giocatore dice no o Inter o niente invece il giocatore cosa ha detto era gli europei ha iniziato a giocare con continuità con l'Under 21 e ha detto ragazzi io la panchina forse devo fare un altro step ma sono fiducioso nelle mie qualità e il Torino mi offre di giocare e quindi è stato anche un po' il giocatore l'Inter poi non ha insistito non ha puntato tutte le pizze Bela Nova sta giocando sta giocando molto bene però si gioca l'Europa è un secondo ragazzi vuoi sentire tutti giocare in una squadra metà classifica nel Torino è una cosa l'Inter se tu fai un paio di prestazioni buone ti elevi rispetto agli altri però Ezio è un 25 dall'Inghilterra perché adesso abbiamo trovato il non stiamo dicendo che è Cafu però nel Torino sta giocando Marco quello che Marco ragazzi mi devo fermare sono in ritardo di 4 minuti per quanto lo spogliatoio Bellanova l'altro l'anno scorso lamentava sicuramente più spazio perché comunque era insoddisfatto del fatto che giocasse poco quindi soffriva questa cosa cioè Bellanova infatti era felicissimo di aver giocato alla finale di Champions di aver messo piede in campo nel finale però era c'era una cosa che molti magari accettano il fatto di rimanere all'Inter pur di rimanere giocare poco avere pian piano la possibilità di dimostrare altri invece soffrono di più perché vogliono giocare ha fatto questa scelta anche perché c'è un carico soddisfa è ma è giovane hai meno carico di responsabilità e giochi diciamo ha avuto ragione nella scelta comunque l'anno scorso Inter Empoli fu umiliato dal pubblico in lacrime uscì perché lui era pure interista da bambino e invece fu barsagliato da fisico magari possiamo dire che magari una volta in Zaghi non c'è una vista troppo giusta cioè comunque davanti a Bellanova c'erano Dunfrise e Darmian non Cafu e Tassotti un po' di polemica perché pare che l'ho detto che Turam effettivamente fosse in fuorigioco all'alba dell'azione che poi porta al gol dell'Inter fosse in fuorigioco cosa che noi sul nasce dell'azione avevamo notato subito come al solito credevamo che l'arbitro aspettasse la fine dell'azione per fischiarlo invece poi la cosa si è protratta l'Inter è arrivata al gol però c'è un però Michele no c'è un però che quando la palla arriva a Turam cioè quando colpisce Pavard che lancia Turam non si vede la posizione quindi noi abbiamo l'impressione che possa essere oltre poi non verificano nemmeno perché siccome inizia un'altra azione il VAR non può più intervenire però nelle immagini che abbiamo visto noi compare Turam che sembra oltre bisogna vedere però quando la tocca Pavard se è oltre o no e questo rimane il dubbio quindi 36 telecamere non sappiamo quando parte il pallone in questa situazione non serve saperlo perché o alza la bandierina l'assistente o non può più intervenire nel dubbio non la alza perché si dice non l'alzare nel dubbio poi parte una nuova azione perché interviene Berezischi e quindi non è più da varre è tutto giusto tutto giusto le tue disamine sono tutte scientificamente perfette il problema è che capita sempre con voi ma come capita sempre con voi il problema è che capita sempre con voi cioè questo è il problema non è tanto il fatto quello che tu me lo puoi spiegare come vuoi ma il problema è che i dubbi ci sono sempre sui gol vostri basta ma io vi chiedo cosa volevate fare cioè voi volete cambiare nel dubbio doveva alzare la bandierina per voi giusto? cioè doveva cambiare il regolamento sì però ma poi vorrei capire quale ultimo tocco dobbiamo guardare il tocco di chi? di Pavard di Marco di chi dobbiamo guardare? no quando sempre per capire quando parte l'azione quando Turam il lancio su Turam è di Pavard in quel momento Turam è in fuorigioco e questo non abbiamo la certezza io lo vedo con un piede oltre poi però magari posso beh anche io nel replay ho detto subito forse oltre per me oltre mi sembra che sia oltre per me un piede ce l'ha però dico lì dalle regia ci dicono che la certezza c'è sì ma l'assistente nel dubbio non deve accadere quello lo sappiamo poi non è più da var quindi il gol non lo puoi togliere tu stai mettendo in dubbio che l'immagine non sia corretta perché non si vede Pavard quando la passa se la fermano in quel momento è perché avranno visto che Pavard è stato come sentivo anche lo possiamo nominare e mica è mica sparito Candreva anche stavolta Candreva ha giocato ogni numeriggio e ha perso col Bologna comunque è incredibile che non ci sia sempre da prima la passa d'altare cosa Marcello? la cosa incredibile è che non trovano mai l'immagine cioè quando si ma qua non la cercano neanche capire se c'è un gol se non c'è quando non gli fa comodo l'immagine non c'è non è mai chiara ma è mai possibile no ma no secondo me Marcello qua non c'è proprio non c'è proprio il motivo per andare a vedere per il gol perché non serve più in favore sempre nei casi in favore non c'è mai che manca l'immagine ma forse è quasi sfortunata l'Inter che alla fine c'è quella virgola regolamentare che fa sì che non si possa andare al VAR a vedere questo episodio è quasi sfortunata è quasi come a Cerbi che passa da vittima adesso secondo Marotta passa da vittima poverino è stato un attacco mediatico no ma ragazzi come c'è il gol durante l'esultanza la regia prende e fa vedere Turam che è in sospetto fuorigioco sì sì siamo d'accordo questo fa d'accordo che comunque è un regolamento che vi sta dicendo benissimo però Marco quando una persona non è stata ancora condannata che non è stata cioè non è stata assolutamente è un processo mediatico però tutti ne parlano in quel modo è un attacco mediatico no però scusa fuorigioco è fuorigioco mi stanno mandando adesso l'immagine dalla regia quando tocca a Pavarra si vede sì 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 è quasi sfortunata è sempre messo i premi è sempre a favore si vede proprio un piede in fuorigioco cioè un piede in fuorigioco un piede sì sì però là è vero o il guardanile si prende la responsabilità subito Marco non è un cammino non parlarvi di attacchi mediatici no è regolamento perché se parliamo di attacchi mediatici io vi ricordo quando Andrea Arielli doveva finire in caccia no scusate quello che volevo dire è che però quando sentite gli audio var che quest'anno abbiamo imparato a conoscere i dialoghi una cosa che su tutti i gol vanno sempre a vedere mi controlli se è la stessa app mi controlli se è la stessa app c'è sempre quindi non è una cosa capito che per caso l'hanno vista lo ho detto prima che è l'attacking facing possession cioè l'azione deve essere la stessa azione offensiva nel gol si 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 non è poco l'anno scorso ha fatto per la prima volta è andato in in doppia cifra alla fine di gol non è poco però è stata l'unica stagione va bene va bene comunque abbiamo appurato che il bilancio è roseo è miglioramento no no volevo dire a Michele ma adesso con tutti questi ricavi stadio eccetera mercandale tutto questo che non basta tu stai stai esaltando allora potete andare da Occhitri e pagare il debito e ma infatti 9 gol l'anno scorso sono andati in doppia cifra non stavo controllando Barella che alla fine erano 9 non è adesso infatti secondo me secondo me Marcello finirà così adesso allora le ultime dico perché così magari i difusi dell'Inter sono molto interessati con tutti questi incassi prendi vai dal castello di San Siro prendi questi soldi e vai a pagare il fondo americano che dice allora noi possiamo pure andare avanti con te Zhang perché non è che proprio la nostra massima aspirazione è gestire un club di calcio e poi c'è anche il discorso che loro dovrebbero far valutare da un perito terzo il club e dare attenzione per ora l'Inter in avanti il tiro di Pavard deviato dalla schiena di Turam il suo connazionale si arrabbia un po' Pavard e Turam dice ho capito mi fa male pure la schiena sai che era ben indirizzato il tiro era molto bello di collo pieno Pavard insegue il suo primo gol quest'anno quindi ci tiene molto allora dicevo quindi alla fine qual è il finale ad oggi ma siamo ancora al primo aprile fino al 20 maggio ancora ci sono margini per almeno due soluzioni diverse che Octree dica ma non apertamente ma lo metteranno per iscritto tra di loro ci porti però un programma a due anni a tre anni in cui poi tu trovi il compratore cioè tu vendi l'Inter e non si è sentito a casa tu trovi il compratore e no significa che tu praticamente dici che non sarai più proprietario cioè hai una scadenza no questo cosa a tre anni a due a due a tre a due a tre ho detto due barra tre ma no io non credo che Zang dica sia questo attenzione ancora l'Empoli in crosta sinistra Di Marco in calcio d'angolo io non credo che sarà questo alla fine del finale perché quello vuol dire che la cede sicura sai perché ti crediamo perché è il primo aprile ma cosa ti crediamo ti sto dicendo ma ragazzi però leggete non è che lo dico solo io l'hanno scritto il Sole 24 ore la gazzetta e lo sport ma quando volete ho il mimo del pesce di aprile se volete tutti quelli che hanno anche Repubblica quando volete voi amici e colleghi che hanno sentito anche la sessione di Londra sì ma a tre anni ma scusa ma a tre anni no no ho detto tre ho detto due o tre non uno o due o tre ma no ma no lo deve trovare subito il compratore perché o chi ti dice se no lo trovo io se no lo trovo di tutto lo trovo io me lo prendi prendo l'Inter la trovo io ma Marcello se tu ufficializzi che deve trovare il compratore in un anno il compratore dice io aspetto perché devo andare da Zang a fare la trattativa con uno che perderà all'Inter perché tutti lo sa diamogliene dieci no ma anche diamogli dieci ma anche se saranno due anche se saranno due o tre non lo diranno mai ufficialmente ma se già scusami ma non ti vuole rinnovare il prestito sì non accetta nemmeno che tu paghi al 20% gli interessi sì perché sarebbe strozzinaggio e non lo vuole cioè alla fine almeno un compratore dice va bene ti posso ancora dare qualche no no ma infatti io l'avevo tra l'altro anch'io pronosticato sono tre anni ma non è che siamo nel paese di Ben Godi ma tu vivi veramente nella frutta candita ma veramente stiamo scherzando attenzione poi tra l'altro sta attaccando l'Inter con Duram arriva Luperto e la butta in calcio d'angolo calcio d'angolo per l'Inter io ti sto aggiornando con la situazione con le notizie tu la vuoi buttare in scherzo prima le notizie quello che fuoriesce le notizie da OCTRI le notizie da OCTRI da Londra che ha anche detto ti dico anche quest'altra c'è un comunicato di OCTRI che Marotta rimarrebbe anche con OCTRI ma c'è un comunicato di OCTRI non c'è il comunicato ma il nostro lavoro è quello di parlare con chi si riesce escono tante notizie eh no capito ma io mi sono accertato vabbè allora scusate se non volete sapere niente ognuno se tu dici che Tiago Motto ha firmato con la Juve io ci devo credere se io ti dico che OCTRI però non gli stai facendo finire è una frase però prende in giro prende io non lo prendo in giro quando mi dice che Marotta che Marotta ragazzi ragazzi ne parliamo tra poco il secondo tempo è partita di nuovo Forte l'Inter un po' come il primo terzo c'è OCTRI che chiede di che chiede di Borrelli cioè cos'è una barzelletta io capisco che con quello che abbiamo sentito finora di barzelletta si perciò ho capito tu Ezio qui vieni come qual è il titolo con cui vieni sei stato centro coordinamento della Juventus dei tifosi della Juventus hai fatto l'arbitro non cominciamo però non sei un giornalista giusto? no se gli dice un giornalista che si inventa le cose è un'offesa grave caro Ezio se lo prendi pure in giro sulle notizie che dà magari anche importanti Michele Michele ragazzi una alla volta per favore nessuno qua ha osato dire che tu ti inventi no lui fa che chiama Hawk 3 perché dice come è possibile che tu hai sentito scusa ogni tanto dalla Cina dalla Cina non è arrivato niente e l'esame sì sì l'esame calma dalla Cina non è arrivato nessun aggiornamento poi è inutile che te li dico perché tanto non li vuoi sapere ma da casa si vuole mentre dalla Sponda Hawk 3 sono arrivate delle novità nelle ultime due settimane nessuno mette in dubbio il tuo lavoro e le abbiamo dette le novità tra l'altro è che le ho riportate solo io le hanno riportate tutti però Ezio non legge certo sì ma tu hai aggiunto una cosa che secondo me non sta in cene niente dilla Marcello io non ti sto contestando la notizia io non ti sto contestando la notizia tu hai dato una notizia che secondo me fino a un certo punto era vera poi la seconda parte che ti hanno dato secondo me non te l'hanno dato buona perché non è possibile che un fondo si metta lì a dirti vabbè 3, 2, 3, 4 anni portami un compratore non ho detto questo mi attribuisce cose non dette fallo finire e poi rispondi tu mi rifinanzia ecco perché dicevo della frutta candita uno che sostiene una cosa del genere vive nella frutta candita capisci che un fondo capisci che tu hai capito una cosa per un'altra capisci che hai capito una cosa per un'altra sentiamo io ho detto 2 parla 3 perché c'è una trattativa in cui magari aspetta aspetta dimarco il calcio d'angolo blocco aprile in una trattativa magari il fondo ti dice 1 tu dici no 3 allora facciamo 2 no perché io ho il coltello dalla parte del marico e non te li do 3 io non ho detto che la notizia è 2 o 3 che non si sa e io ho detto anche se verrà raggiunto un accordo fammi finire dici che devi finire fammi finire pure tu se verrà raggiunto un accordo io ho aggiunto non sapremo mai qual è l'anno 2 1 o 3 perché perché se no un eventuale terzo non si avvicina fin quando non scade quel lasso temporale quasi sicuramente quindi nella notizia non c'è assolutamente nessun lasso temporale c'è solo il fatto che Oktri dice se proprio proprio vai avanti tu però dobbiamo stabilire una road map il numero di anni non si sa questa notizia questa notizia che hai dato tu stasera io la conoscevo già esatto sto dicendo che non è di oggi io la conoscevo già esatto la conoscevo già però quando tu mi hai aggiunto sta cosa di 2-3 anni io sono sobalzato sulla sedia soprattutto il sobalzo per la seconda volta quando tu ci aggiungi pure no ma Oktri non gli sta proponendo 3 anni è l'Inter e Zange che propone i 3 anni allora sono lì sobalzo ancora ma sai pazienza cosa decide ancora già non gli dai soldi e decide ancora lui il tempo in cui deve trovare il compratore no non decide perché lui no perché all'inizio l'hai detto pure tu all'inizio la prima richiesta non è proprio la strada a trovare il compratore all'inizio attenzione Michi Michi ancora con Pavard in aria il tiro deviato fuori che palla di Barella e questa è una grande occasione per Pavard che ci sta provando e riprovando sono due volte in questo secondo tempo qua colpito bene di follo pieno ma la palla è stata deviata si è inserito ancora centralmente un difensore dell'Inter e poi grande l'intervento in scivolata Berezinski forse Berezinski sì 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 ma l'altro proprio lui molto grande la palla di Barella giustamente una palla che non dice un movimento di Pavard ma una palla di Barella che prima si diceva da tecnici tutto molto bene un gioccolatino Barella va in porta attenzione calcio d'angolo palla al centro respinge ancora Lempoli che prova a ripartire c'è un fallo di mano vediamo ho fischiato subito cartellino giallo per cambiare quando vedo si giallo io impazzisco cioè Barella l'ho visto rinviare due o tre volte quest'anno non ha preso un giallo qua cambiare per la palla rinviata vediamo un attimo a volte la munizione arriva dal fatto che il gesto è stato eclatante qua è stato eclatante ma per la palla rinviata ma per il fallo di mano è profetizzato da questo qua Simone Barbato il numero 70 dell'Inter che mette il sigillo su questa partita 81esimo minuto 2 a 0 per l'Inter i due subentrati ha avuto ragione Simone Inzaghi cross di Dumpis manca la palla Turamma arriva Sanchez che non la prende bene ma la cosa importante è che la mette nel sacco 0 dell'Inter si balla è il nino maraviglia che via che via che il nino maraviglia è il nino maraviglia che via che via che il nino maraviglia ha fatto l'1-2 da solo 2 a 0 all'ottantesimo l'oracolo è tornato è il nino maraviglia che via che via che via meraviglia amica tanto morina maraviglia che via che via morina maraviglia è il nino maraviglia che via che via che via che via che via che via ha fatto l'1-2 da solo ascolta tu che vivi hai due subentrati Dunfris e Sanchez a dove anni c'è stato il metarco allora possiamo dire che il nigno a maraviglia sta per sbagliare Marco racconterà tu sul fondo sulla destra Dunfris l'ha messa in mezzo a porta vuota completamente vuota a raso terra la palla arriva maraviglia con il destro colpisce la liscia se la tira sul sinistro la palla finisce dentro ha fatto l'1 e 2 da solo io dalla ventennale ha fatto l'1 e 2 da solo è meraviglioso dalla ventennale esperienza di mezza punta nel trisobbio dalla mia parte vi posso garantire assicurare che l'ha fatta apposta è un numero un numerillo che ha fatto un numero gli ultimi due gol che ha fatto è stato questo e l'ultimo che ha fatto l'assist ha segnato con il Genoa l'altro gol in campionato i due gol in cento però io dico per la cronaca si può dire che ha segnato Sanchez che l'Inter vince 2 a 0 ma si può anche dire che la stava cannando clamorosamente si per la cronaca per ricordare io tutto è successo questo qua posso dire una cosa quando ero giovane giocavo appunto nel trisobbio ancora con te nel trisobbio e fatemi finire a ragionare il concetto io facevo questo numero qua questo numero qua dove attenzione col destro me la tiravo sul sinistro tan tan gol certo tan tan e la chiamavo il colpo della forbicina non è quello che ha fatto Sanchez che è quell'insetto è quell'insetto che ha quella forbice dietro andiamo da Marcez no però volevo dire al volo che sono entrati Dumfries e Sanchez il gol viene da Dumfries e Sanchez siccome qualcuno qua ha messo in dubbio le capacità divinatorie del demone speravo speravo di cosa stiamo parlando perché sennò sembra che siamo cattivi era successo con Escharawi che l'aveva preso tra l'altro l'incrocio Marcello il nino maraviglia che viglia che viglia attenzione all'Empoli ora in aria lascialo divertire che ti devo dire sì anche per me non è che ha fatto sto gol eccezionale però pensavo fosse il fuorigioco invece avete ragione dietro la linea della palla quindi questo è regolare non era regolare quello prima quindi vincono una zero di fatto sul primo tutto non era regolare quello che praticamente ha deciso sbloccato il primo è tutto da accertare fatto sì che abbiano giocato più di un'ora in vantaggio da accertare il primo accertare vabbè così noi siamo è tutto l'anno che dobbiamo accertare la spinta di Bissek il fallo di Lautaro quello c'era quello non è da accertare quello non è da accertare anche quello è passato ma manco 20 punti di vantaggio basta una volta se non si capisce più 40 è passato in prescrizione diggielo tu che sei giornalista eh infatti che cosa che cosa quello che ha detto Marcello se spotti ti rispondo 87esimo di gioco Inter 2 Empoli 0 Empoli che però sta continuando a provare a metterci il cuore fino all'ultimo se l'è giocata la sua partita e ha anche creato insomma più che diciamo tiri pericolosissimi delle situazioni in area di rigore interessanti l'Inter quest'anno ha preso 14 gol sono pochissimi se consideriamo che a questo punto del campionato dobbiamo risalire al Milan di Capello 93-94 cioè 14 gol in 30 giornate sono pochissimi il Milan di Capello aveva preso 14-34 giusto sì poi finì il campionato chiuse a 15 quell'anno con 36 gol fatti con Brescia segnava pochissimo Massaro fece mi sembra 11 gol e l'unica volta che fece più di un gol mi sembra è la finale di Capello 4-0 con Barcellona e questa Inter con questi due gol arriva a 73 gol cioè sono praticamente giusto il doppio di quel Milan per dire che magari tu sei ermetico dietro non fai passare un pallone però vinci 1-0 quest'anno l'Inter insomma ha vinto tante partite di goleada e gli va riconosciuto voglio dire c'è 2-0 stiamo parlando di una partita dell'Empoli e Greggia però non ha fatto un tiro in porta se non da 40 metri che ha fatto la parata peggiore attacco del campionato non ha fatto i tre tiro in porta non ha fatto i tre pericolosi Marcello però 20 minuti di pressione assolutamente ha fatto una buonissima partita l'Empoli pressione a Dumfries contro Cagace tutti e due subentrati quindi vediamo chi sta meglio Dumfries che si gira da una parte dall'altra alla fine sbaglia però il passaggio per Barella che rimane immobile ma poi l'Inter recupera palla con Cerbi che oggi è andato molto in avanti a rompere la linea poi da quando è uscito forse Bastoni anche più lui che va adesso torna indietro con Carlos Augusto ricordo l'Inter ha cambiato dietro quindi Carlos Augusto e non Bastoni sugli esterni Dumfries e Darmian ora esterni tanti interisti invocano anche un po' di minutaggio a Buchanan però adesso è entrato Frattesi al posto di Mkhitaryan all'84esimo sono finiti i cambi sarà per la prossima una pavarra che anticipa il giocatore dell'Empoli a destra e poi viene atterrato cartellino giallo vediamo chi era perché dall'alto si vedeva da molto lontano non l'ha fatto con cattiveria e Cacace proprio che dicevamo subentrato da poco al posto di Pezzella sì non era cattivo l'intervento però l'ha preso proprio uff è arrivato eh l'ha preso bene però se lo faceva Gatti però se lo faceva Gatti era era da rosso da rosso diretto io di Gatti quest'anno ho ricordato anche spesso la bella prestazione sulle a vediamo quali immagini c'è regolarissima guarda perfetto ma qui c'è perché hanno dovuto controllare lì non c'è perché non dovevano controllare non hanno controllato ho capito ho capito cioè metti caso che controllavano e vedevano che era fuorigioco per un centimetro e diceva ah peccato era fuorigioco ma non potevamo dirlo se non puoi intervenire non puoi intervenire però hanno dimostrato che era fuorigioco ma non si poteva controllare no non l'hanno dimostrato quelle sono immagini fermi immagini che tutti hanno cercato di prendere ma non c'è un'immagine quindi l'unico che ha sbagliato attenzione palla in mezzo Sanchez è il guardaline se fuorigioco ha sbagliato il guardaline però sai che io non me la sento di dire perché nel dubbio devi tenerla in base l'immagine è tridimensionale perché allora tu nel momento in cui non si concretizza l'azione e vedi il tocco di quello di Empoli alzi la bandiera e dici era fuorigioco esatto giusto? no 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 allora non deve fischiare perché non deve alzare la bandiera perché deve aspettare che l'azione si concluda no perché si ha dei dubbi scusa il termine se non aveva dubbi doveva alzare lui nel dubbio deve venerla ha sbagliato clamorosamente no ma non si ha dei dubbi ha sbagliato perché è fuorigioco cioè fuorigioco lo devi segnare sei lì apposta perché se no togliamo i guardaline io sto dicendo che finora io ho visto un'immagine che mi hanno girato attenzione Sanchez gli tolgono la palla arriva anche Barella che allarga a sinistra dove sta per arrivare Carlos Augusto che arriva prima e poi ti dico adesso vai indietro seguiamo l'azione con Aslani ancora Barella Barella per Carlos Augusto giropalla dell'Inter ancora Carlos Augusto per Aslani che tiene palla subisce fallo punizione per lì no dicevo io l'immagine che vedo non è l'immagine classica quella che interviene il VAR è un fermo immagine tra l'altro nemmeno nella posizione lungolinea in cui c'è la palla che hai visto quando tu fermi da solo con uno screenshot di un cellulare come si faceva fino all'altro ieri giusto però tu vedi il pallone non lo so se era già staccato dal piede se il frame giusto è quello precedente voi avete tutte queste certezze che Turam era oltre anche sul VAR sappiamo che ci sono queste dinamiche anche col VAR addirittura cosa serve sto VAR se ogni volta manca l'immagine e cosa serve se l'immagine che ogni volta dovrebbe chiarire il dubbio non c'è qui non la cercano nemmeno Marcello qui non la cercano nemmeno per favore gioca l'Inter non la cercano perché gli chiedono c'è un'altra azione che è cominciata sì e allora è inutile perdere tempo a vedere se c'è o non c'è no stiamo a vedere facciamo che dagli il gol e chi se ne frega ma tu lo dici per scherzare o perché veramente non ci capiamo il gol è arrivato al quinto minuto spianiamogli già la strada così almeno è più facile anche questa vittoria arriviamo prima sta benedetta attenzione all'Empoli ora in contropiede ci prova fino all'ultimo ancora attenzione gli uomini di Nicola che con ora cambiaghi prima a destra prima a destra che è entrato al posto di Niang negli ultimi 8 minuti 4 minuti di recuperone sono già passati 1,45 1,50 quindi ancora un paio di minuti partita che ormai sul 2-0 con il gol di Sanchez è abbastanza possiamo dire anzi adesso è in cassaforte scusa ma tu chiedi indicativamente non vorremmo gufarla però indicativamente la partita è in cassaforte tu chiedi a noi se stiamo scherzando dicendoti quando tu dici ah no ma hanno ritenuto che non era il caso non era il caso di guardare un'azione che porta al gol del 1-0 no perché non è l'azione del gol vedi che non ci cambia ma tu pure hai fatto l'arbitro Ezio ma questa è l'azione del gol no perché la prende Berezischi parte da lì parte da lì ma la prende Berezischi inizia un'altra azione la prima cosa che controllano quando vanno a vedere il VAR è la stessa azione controllami controllami se no non vengo proprio ma Turam è sempre in fuorigioco Berezischi è sempre in fuorigioco ma quello lo può stabilire solo l'assistente il VAR non può intervenire l'errore più grande è dell'assistente come ha fatto no diciamo che l'ultima azione quella del gol non è fuorigioco ma prima torniamo in cronaca l'ultimo minuto l'ultimo minuto dai lo dicono apposta non è che non lo sanno nemmeno loro Barella lo sanno benissimo come funziona stai dando dei provocatori ma Marcello lo sa benissimo come funziona anche tu parli latino anche io sì qualche latinismo anche Ezio lo sa benissimo come funziona fa finta di non sapere 93-20 ormai l'ultimi 40 secondi Inter ha in possesso falla Audero che insegue il suo secondo Klicit su due in campionato ha giocato il Lecce Inter 0-4 giocassi io nell'Inter farai anche io Klicit Varaldi sì ma oggi oggi beh oggi l'avresti fatto una parada non mi ricordo riparte l'Inter nell'ultima azione con Carlo Saugusto che non riesce a far passare questo pallone Maslani sì e allora ancora l'ultima azione dell'Inter con Barella che allarga a destra per Pavard che alza la testa il cross per Turam no la palla va da Caprile quindi blocca niente da fare per Turam ora Sanchez che va a pressare vediamo lì l'arbitro che dice sì si può giocare perché mancano 5 secondi allora Sanchez la mette in mezzo per frattesi il tiro fuori forse anche deviato leggermente ma non c'è più tempo né per la rimessa né per l'angolo finisce qui Internazionale 2 Triunfo Empoli 0 l'oracolo è tornato 79 punti più 20 sulla Juventus più 14 sul Milan tanti record caro Simone da ricordare diciamo solo che questa Inter ora è a un punto anche quello della seconda stella un record a un punto dall'Inter di Mancini del 2007 che oggi pareggiava quindi ne guadagna 2 siamo 80 a 79 e Audine può addirittura superare quell'Inter lì incredibile incredibile e inchinatevi all'oracolo l'oracolo è tornato aveva detto è sbagliato è tornato l'oracolo è la prima volta che ci azzecchi l'oracolo è tornato è tornato da Ovada da Sago anche questo non è vero è la prima volta che ci azzecchi il risultato pieno no tante volte tante tante volte più quelle che non è azzecato quelle che è azzecato più quelle che è azzecato bisognerà non ho uno storico però non hai la statistica però diciamo che la media è molto buona la media è molto buona anche perché tu dici sempre che l'Inter vince è la prima volta che ha azzecchi tu dai sempre l'Inter vince quest'anno l'Inter vince quasi sempre no no non raccontarci tutta la tua vita in breve la mia storia con la schedina totocalcio vecchia degli anni 80 ai 10 secondi ero piccolo quando l'Inter giocava è semplice se mi fate spiegare ve lo dico se no al volo quando l'Inter giocava in casa barravo 1 quando l'Inter giocava fuori casa barravo 2 quando l'Inter giocava in casa barravo 1 quando l'Inter giocava fuori casa barravo 2 allora ci fermiamo ci fermiamo due minuti il vino arriverà perché sennò è una figuraccia Michele up and down vai si si va bene brindiamo anche magari studio brinda su quest'Inter vai allora allora andiamo ancora con le conferme con le conferme allora Di Marco lascio il 7 e mezzo sì Bastoni 7 più Di Marco 7 e mezzo Bastoni 7 più e come terzo sostituisco Acerbi che comunque mi è piaciuto stasera anche in diverse situazioni dove la squadra è scoperta però metto Barella che secondo me l'ha scavalcato nel secondo tempo arriva a 7 Barella Barella 7 quindi allora quindi Di Marco Di Marco 7 e mezzo Bastoni 7 più Barella 7 ecco qua la nostra regia scelerissima posso interromperlo perché 7 e mezzo per il gol perché 7 e mezzo Barella Bastoni ha fatto una grandissima partita arriva alla conclusione si inserisce più volte no io lo dico sempre poi ognuno ha i suoi metri di giudizio nel mio metri di giudizio diciamo che siccome nel calcio a volte giochi bene tipo il Lecce oggi ma non la butti dentro il gol fa sempre aumentare anche gli assist in un'opinione ci sta sì sì ma infatti poi i voti sono insufficienti insufficienti allora io tu aspetta postilla postilla di Ezio una piccola nota di merito da Udero che ha fatto sull'1-0 ha fatto un'apparata 30 metri no 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 non sono d'accordo quello è stato un gol quella parata ma Udero è un portiere ma è calcolato quando prendete un tiro in porta partita ma gli spettatori l'hai calcolata Udero guarda che qualche posso dirti Simone adesso voglio rivendicare allora Marco ha giocato è stato portiere anche dell'India anche dell'India devi suicidarti no però posso dire ha fatto una bella parata ha fatto un miracolo quasi un miracolo hai tendente al miracolo Marco scusa se mi permetto scusa se mi permetto di intromettermi nella tua professionalità però quello è stato un tiro a foglia morta alla brasiliana no dove il portiere quella al massimo alla maledetta fa così guarda la foglia morta è quella di Mario Corso e poi si accorge all'ultimo che la palla si abbassa dovresti saperlo si accorge all'ultimo quella è la maledetta quella è simile alla maledetta foglia morta no foglia morta ma no la foglia morta è tutto una è una punizione a giro che scende molto bene Michele i peggiori allora i peggiori confermo come nel primo tempo confermo Turam Turam che insomma un po' leggero in fase nell'aria di rigore ecco per diventare grande secondo me come attaccante che è il suo obiettivo quindi più nove che è trequartista deve continuare a ricercare la cattiveria e la precisione in aria dove manca quindi gli do un cinque cinque e mezzo a Cialanoglu che è stato anche sostituito da Aslani non è diciamo il Cialanoglu fino a fine febbraio l'infortunio poi è tornato ci ha abituato troppo bene sì sì è sempre diciamo l'Inter gira spesso intorno a lui però sono tre quattro partite che Varella rispetto a Cialanoglu e Mkhitaryan fa un altro sport proprio a livello di intensità di corsa Mkhitaryan lo tolgo però dai down perché nel secondo tempo comunque è stato partecipe in tutte le azioni tatticamente esagerato un'insufficienza per lui secondo me il terzo la lascio vuota perché non c'è un terzo no se non c'è non c'è almeno per me va bene va bene c'era un terzo? no no ma sicuramente no ma la prestazione è stata positiva l'Inter ha meritato di vincere nonostante la buona partita dell'Empoli però qua stiamo a esaltare una buona partita dell'Empoli che ripeto ha fatto l'unico tiro in porta a 30 metri quindi vuol dire che l'Inter dimossa per l'ennesima volta e avere una forza decisamente superiore a tutte le altre forze del campionato certo in Zaghi che voto gli diamo anche oggi? in Zaghi gli diamo 7 perché c'eravamo permessi di alzare il ditino dovevano uscire altri due non Dufris e Sanchez entrare al posto di Lautara entrano quei due e segnano ok poi c'era simpaticamente perché ne abbiamo parlato Sanchez ha colpito con un piede ha segnato con l'altro quasi involontariamente e ne rideva con Sommer quando c'è stato il fischio finale perché gli diceva è lì il terreno mi ha tolto ci mancherebbe poi era anche il terreno però si sentiva siccome Sanchez è uno che fa del tocco di palla una delle sue pezze ci teneva a chiarire forse lo stavano prendendo in giro lo stavano prendendo in giro perché dice volevi proprio tirare con quel piede d'accordo ecco Sanchez è un giocatore da numero 10 come tipologia di giocatore è diventato secondo me era più 11 all'inizio della carriera quando è stato il suo massimo oggi anche nel Cile gioca 10 c'è tre quartiste però dico tecnicamente tra Sanchez e Turam ci sono categorie tecnicamente lo valuti poco Sanchez nella vita tirava le punizioni a Barcellona però attenzione perché Turam è come le mosche agli occhi anche sembra che abbia agli occhi anche dietro la testa va bene no Turam tra la forbicina e la mosca quando Turam quando Turam è come se vedesse a me ha dato questa percezione è come se vedesse anche dietro la sua testa quella qualità lì per esempio Lukaku non ce l'aveva quando gli arriva la palla riesce a smistare il pallone anche ma secondo me il giocatore sopra il metro e novanta l'unico che giocava a fare questa giocata era Francesco Totti anche Turam riesce a fare che gli arrivava la palla e sventagliava in un amen vabbè ma ragazzi stiamo parlando mamma mia ma i passi quelli alti molto alti sono buoni che tu però bravo allora rimani secondo me nella critica a Turam te lo dico perché spesso consideriamo i giocatori alti quelli fisicamente non validi invece lui scelava se andiamo a vedere forse consideriamo quelli alti forse ci ricordiamo Zidane vabbè Ibra per eccellenza Ibra ok però in realtà Turam è un buon giocatore tecnicamente no ma certo e quelli che con il baricentro basso ci servono però dico se non è un giocatore un giocatore con il baricentro basso è molto più agevolato alla tecnica è molto più è molto più inclina alla tecnica perché ha più facilità di movimento alla tecnica voglio ringraziare Barbato per queste lezioni di entomologia che ci sta dando questa sera gratis gratis che andiamo a casa che sappiamo tutti qualcosa in più sugli insetti grazie le forbicine ricordiamo anche per chi osare Inter Empoli come è finita Juve Empoli visto che noi abbiamo l'ossessione della Juve vi faccio vedere la classifica di Serie A ti ricordo che abbiamo giocato tutta la partita in dieci uomini e non abbiamo segnato in fuorigioco di Serie A Marcello hai tirato anche tu un sospiro di sollievo oggi con il pareggio della Roma-Lecce ma sì un po' sì un pochino sì proprio perché la situazione della Juve è disastrosa non so quando ne uscirà e se ne uscirà la Juve sono molto preoccupato infatti io non a caso Allegri comincia a guardare la distanza dalla quinta non a caso vediamo anche il calendario della Juventus Marcello la vede dall'inizio dell'anno che c'è quello coerente Marcello brutto punto conquistante ragazzi uno alla volta uno alla volta per favore si capisce niente l'aveva detto anche Oppini questa cosa che la Juve avrebbe lottato per il quarto posto quest'anno calendario Juve che Ezio ci anticipa a essere molto molto brutto certo perché dobbiamo andare a Roma dobbiamo giocare con il Milan adesso abbiamo la Fiorentina il derby che va bene che da vent'anni non perdiamo a Cagliari che Cagliari può avere una situazione è chiaro che vedendo la Juve così oggi tutte le partite fanno paura sì però quelle che ti ho elencato sono partite difficili in ogni caso però è chiaro che questa è una condizione mentale perché la squadra la squadra come potenziale non dovrebbe aver paura di queste partite il problema è molto mentale secondo me il problema del il problema io voglio capire io però voglio capire perché pago 7 milioni più 2 di bonus un allenatore che non riesce a risollevare questa situazione che non riesce a ridare la scossa delle motivazioni a una squadra a risollevarla a svegliarla no io perché devo pagare 7 milioni per cosa? questo è calendario a un allenatore che non riesce quasi tutto il giorno di ritorno a rimettere in piedi una squadra perché devo pagare 7 milioni? perché non è nelle corde della Juventus Marcello lo sai bene l'ultimo allenatore che è stato mandato via prima della fine della stagione è stato Ciro Ferrara quindi torniamo alla notte dei tempi e io sono d'accordo con te anzi ti ricorderai sicuramente che io ero fra quelli che ha sempre sostenuto che non bisognava richiamare Allegri dopo che era stato mandato via in quella maniera però in questo momento la Juventus non lo farà mai a meno che domani sera partiamo 3-0 e poi stessa sorte con Fiorentina e Torino perché domani si affrontano a Juve Lazio perché devi perdere 3-0 con la Lazio non hai perso tra l'altro domani vi ricordo ancora ci sarà il processo di Biscardi domani sera non mancato l'appuntamento seguiremo anche Juve Lazio di Coppa Italia Marco io credo che delle volte si vuole un aspetto psicologico da parte dell'allenatore di intervento che non è avvenuto perché ragazzi una vittoria ricordiamoci al 95esimo un gol di Lugani su calcio d'anno Juve Frosinone Juve Frosinone cioè elettrocefalo programma piatto adesso ho anche un po' di sfortuna perché prende gol al 93esimo però alimenta 5 secondi dalla fine però spesso la fortuna aiuta gli audaci la Juve è tutto forché audace però il secondo tempo esatto della Juve è stato stare dietro all'ena del paglione aspetta la ma poi quello che mi stupisce portare a casa lo 0-0 allora tu puoi intervenire a un certo punto per cambiare diciamo un modus operandi delle cose intervenire anche dal punto di vista tattico-tecnico è andato con questa forma di tridente adattato come partito quasi a contentare l'opinione pubblica in una via di mezzo quando la volta prima si era sconfessato dicendo che non avrebbe lui non fa il politico quindi non deve non l'ha mai messo in campo all'inizio un 4-3-3 ma poi è un 4-5-1 ma è diventato 5-4-1 esatto perché se uno del tridente è cambiaso è come una supercazzola però ecco è una forma coerente ma quasi per accontentare è anche confusionario in questa situazione e se uno dei 5 dietro è De Sciglio con tutto il bene che possiamo volere a quel ragazzo che poi alla fine del primo tempo deve togliere perché la sua prestazione era imbarazzante però è proprio l'atteggiamento perché a me dispiace anche chi ha ridotto la sconfitta della Juventus a questo povero ragazzo Sekulov no? no è colpa di Sekulov avete visto Sekulov che tra l'altro è una punta ed è stato mandato in campo a fare il terzino cioè non è stato neanche messo nelle condizioni è giusto che l'attaccante segua il difensore che taglia e fa in mezzo questo fa l'attaccante nell'Under 23 non ha mai giocato in prima squadra lo fai entrare lo metti oltretutto fuori ruolo non ci siamo quando una squadra funziona si inserisce un giovane funziona anche il giovane 99 su 100 certo quando una squadra non funziona inserisce un giovane fa molta fatica è l'episodio lì non c'entra la squadra assolutamente certo nella globalità va bene chiaramente noi domani seguiremo con il processo Juventus-Lazio di Coppa Italia che a questo punto Marcello diventa un obiettivo da non fallire per lo meno arrivare in finale anzi poi vince la forza questa Coppa sì ma non so nemmeno se è un bene a questo punto arrivare in finale perché come si è messa la situazione tu ti devi concentrare tutto sulla Champions League cioè tu veramente non puoi fallire quella puntaventoria comunque dopo anni che dopo anni dovessero vincere la Coppa Italia la stagione salvata per loro beh guarda te lo dico già qua Simone non la vince ma però scusate anche andare solo e anzi anzi io ti a malincuore ti devo dire vedrai che la Lazio elimina la Juventus te lo dico a malincuore anche solo andare in finale è stata ufficializzata la Supercoppa 4 certo quindi la Juve andrebbe a fare la Supercoppa finora con Inter Milan e l'altra finalista di Coppa Italia certo sono soldi e adesso distribuiscono parecchi soldi anche se arrivi secondo nella Supercoppa sì sì esatto la Supercoppa Italia è una prossima e immagina in Arabia a trovare di sponsor va in Medio Oriente ma proprio per questo serve una scossa proprio per questo servirebbe una scossa ma non arriverà purtroppo non arriverà perché continuiamo a mantenere stasera addirittura non è stata fatta una conferenza stampa oggi diciamo era già stato deciso nei giorni avanti io non avevo sentito questa comunicazione hai detto una cosa verissima Marcello abbiamo sempre detto che Allegri non ha mai marcato visita su una conferenza stampa oggi no oggi invece solo una cosa visto che ha parlato di Allegri che era stata già decisa alcuni giorni fa saluti Ezio visto che ha detto dopo anni la Juve nel 2021 la Coppa Italia la vinta quindi non è che stiamo parlando di tre anni di Allegri è ubriaco dalla vittoria dell'Inter